Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti a questo secondo appuntamento del ciclo filosofico di Palazzo Ducale, Filosofie della Natura per l'Avenire del Pianeta Terra. Oggi sarà nostro ospite graditissimo Leonardo Caffo, filosofo, uno dei giovani filosofi più apprezzati e commentati a livello internazionale. È professore di ontologia del progetto presso la Facoltà di Architetture del Politecnico di Torino, corrabora con il Corriere della Sera e con altre testate nazionali. Leonardo Caffo è autore di diversi volumi presso i maggiori editori italiani, Einaudi, Mondadori, Bompiani, La Terza. Da ultimo ha pubblicato per nottetempo quattro capanne della semplicità, sempre per nottetempo dopo il Covid e per Mondadori il cane e il filosofo. Io sono davvero felice di avere qui con noi questa sera ospite Leonardo Caffo per due ragioni. La prima ragione è che Leonardo è uno dei critici più acuti, radicali dell'antropocentrismo filosofico e dall'altro perché è un filosofo che non concepisce la filosofia come mero discorso, come mera teoresi, ma la concepisce davvero come una forma di vita. Cito un passo dal suo ultimo libro, Quattro capanne, nessuna teoria filosofica è tale se non viene testata attraverso una pratica di vita. Dicevamo la scorsa volta in apertura di questo ciclo che il ciclo filosofico Filosofie della Natura non vuole essere semplicemente una riflessione teorica su quali siano le problematiche inerenti alla natura e né semplicemente una declinazione della filosofia come filosofia della natura. Vuole essere un discorso filosofico che si occupa di quali nuove forme di vita mettere in campo per l'avvenire del pianeta Terra, perché la questione, la scommessa è quella di cambiare modo di vita, cambiare modalità e forme di vita, altrimenti la filosofia resta inceppata in un discorso che anche con le migliori intenzioni rischia sempre di rimanere autoreferenziale. Quindi il fatto che ci sia Leonardo Caffo oggi a parlare di questi temi qui mi fa davvero piacere. Leonardo oggi ci parlerà di una teoria della stabilità in cui tratterà l'antropocentrismo filosofico per poi elaborare un superamento di questo antropocentrismo per una filosofia della natura. Lo ringrazio ancora e gli cedo la parola. Grazie a tutte e tutti. Allora, innanzitutto buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Io volevo ringraziare senza retorica, oltre che Palazzo Ducale, Simone Regazzoni, anche perché il ciclo che ha costruito, che ha curato per Palazzo Ducale, secondo me mostra un'urgenza della filosofia come motore del dibattito pubblico e poi onestamente credo che Simone stia facendo un lavoro veramente eccezionale e in linea con la curatela di questo incontro nella sua filosofia. La palestra di Platone è stato un libro secondo me meraviglioso in cui per motivi completamente diversi da quelli che ho analizzato io nella mia ricerca mostra proprio che cosa significa farsi pratica per una filosofia e io l'ho trovato veramente interessante e credo che insomma si muovano tante cose in questo momento nel dibattito filosofico italiano fuori, dentro e di lato all'università e non soltanto. Insomma è bellissimo e sono anche contento che ci saranno anche giovani filosofi italiane importantissime, bravissime come Lucrezia, Ercoli tra gli ospiti di Palazzo Ducale nel ciclo che ha curato Simone. Io oggi provo a semplicemente mostrare un piccolo percorso sostanzialmente di ricerca, in questo momento si dovrebbe vedere il mio schermo se tutto va bene, la condivisione del mio schermo rispetto alla parola stabilità. Non è che, come dire, Simone Regazzoni prima diceva una cosa che io condivido molto, cioè che l'avvenire del pianeta, noi abbiamo in questo momento come probabilmente tema fondamentale, fondante delle filosofie e delle teorie contemporanee, una relazione tra l'ecologia, le forme di vita, la progettazione, le cose che dobbiamo, possiamo cercare di fare per invertire il trend negativo di quello che chiamiamo antropocentrismo. Io qui provo a fare un piccolo percorso in alcune delle cose che ho fatto, lo dico senza dire storica, che non ritengo per nulla rilevanti, ma l'unica cosa che sono riuscito a fare in mezzo alle mille difficoltà in questi anni, per poi provare a ragionare su questa parola, la stabilità. Allora, la parola antropocentrismo non è di per sé una parola negativa, come la presentano troppo spesso, secondo me, i filosofi gemelli a me o alle cose simili, o molto meglio, che ho fatto, io riferisco a Emanuele Coccia, per esempio, che sarà uno dei grandi invitati, credo, se non vado errato, del ciclo che Simone Regazzoni sta curando per Palazzo Ducale. E Emanuele è un altro che spiega benissimo che, come dire, l'antropocentrismo, come tutte le cose, può essere usato bene o male. Ed è ovvio che, almeno in principio, lo abbiamo utilizzato benissimo. Uno potrebbe dire che senza l'antropocentrismo probabilmente non avremmo avuto neanche la filosofia occidentale, non avremmo avuto probabilmente neanche l'Accademia di Platone, che è appunto uno dei temi di ricerca di Simone Regazzoni, non avremmo avuto Aristotele, non avremmo avuto molta arte, ma non avremmo avuto neanche cose come questa, cioè come l'umanesimo. Perché, come dire, l'antropocentrismo innanzitutto è stato un grande movimento, qui andiamo con l'accetta, di centralizzazione dell'essere umano rispetto a quello che era il ruolo nel mondo che l'essere umano doveva avere. E quindi il ruolo di animale cosciente, il ruolo di animale concettuale, il ruolo di animale sociale, il ruolo di animale costruttore di giustizia, di società, di illuminismo, di ragione, di bilancio tra ragione e sentimento. Ecco, sull'antropocentrismo io vorrei fare un ragionamento simile a quello che Adorno e Horkheimer facevano per l'illuminismo, no? Non è che l'illuminismo per Adorno e Horkheimer fosse una cagata pazzesca, per dirla come diceva Fantozzi, come spesso succede a chi magari non entra in profondità di queste opere. Ma quello che sostenevano è che appunto dell'illuminismo bisognava fare una dialettica e una dialettica significa che attraverso gli strumenti che ci aveva fornito lo stesso illuminismo noi potevamo mettere in discussione le idiosincrasie, i problemi, le concettualità negative, gli effetti malvagi dell'illuminismo. E la stessa cosa bisogna fare con l'antropocentrismo. Non bisogna dire, come spesso capita, secondo me, in delle filosofie molto alla moda oggi che riguardano il postumanesimo, penso alle grandi filosofie internazionali, Dona Arau e Rossi Bradotti, eccetera, che l'antropocentrismo è semplicemente una cosa terribile. Ma l'antropocentrismo è un movimento, un sistema di cui bisogna fare una dialettica. Cioè oggi l'antropocentrismo ci dà gli strumenti per fare a meno dell'antropocentrismo. E non dobbiamo mai dimenticarci di questa cosa perché se no rischiamo di dire che è stato tutto un errore. Questo è profondamente sbagliato perché anche una cosa come il rinascimento, che potremmo dire essere una delle tante parole con cui sto andando a caratterizzare l'antropocentrismo in modo folk qui stasera con voi, non avrebbe avuto l'impatto che ha avuto la costruzione architettonica tipica del rinascimento. Entrare in Piazza della Signoria a Firenze è un grande ingresso dentro l'antropocentrismo, se vogliamo. Sicuramente quello è un antropocentrismo positivo, qualcosa che è stato in grado di distinguere la vita umana dalla vita animale in modo non volgare, non in modo violento, di edificare degli spazi di bellezza incredibili. Quello che bisogna fare oggi in un momento di grande crisi della società umana e del ruolo dell'essere umano rispetto al pianeta o all'avvenire del pianeta, per citare ancora una volta il sottotitolo di questo bel parterre di conferenze in cui anch'io ho l'onore di essere inserito, è quello appunto di cercare di mettere in crisi con gli stessi strumenti che ci sono stati dati dall'antropocentrismo, l'antropocentrismo stesso. In un modo molto, secondo me, anche transcian, oggi si parla di quattro rivoluzioni, un pochettino per metterle in relazione a quelle che erano invece i grandi assi, potremmo dire, dell'antropocentrismo classico, così come noi lo abbiamo conosciuto. Tutto ciò che esisteva, diciamo così, pre-Darwin, il momento in cui non avevamo ancora la consapevolezza meravigliosa e straordinaria che ci è arrivata con il lavoro di ricerca di Darwin, che tra noi e gli altri animali e le altre creature del mondo non c'è una differenza qualitativa, bensì una differenza quantitativa e che in qualche modo siamo tutti connessi nel grande cerchio della vita e che non ci sono posizioni verticistiche in relazione, ma soltanto, come dire, in modo monadico, cioè ogni essere vivente al vertice della propria lina cladista, quindi non c'è una gerarchia all'interno del sistema darwiniano. La seconda rivoluzione di cui spesso si parla nella letteratura e la cosiddetta rivoluzione copernicana, il motivo è, come dire, quasi geometrico. Se Darwin ci ha spostati dall'idea di venire dall'alto verso il basso e ci ha rimessi nell'idea che veniamo dal basso verso l'alto, con la teoria dell'evoluzione e dell'emergenza della vita, la rivoluzione copernicana ha spostato Homo sapiens dal centro delle cose, gettandolo verso, diciamo così, si dice un po' volgarmente, la periferia dell'impero, no? Perché in qualche modo, appunto, tutte le nostre idee sul sistema solare, sul ruolo privilegiato che è il nostro pianeta e noi, in quanto abitatori privilegiati di questo pianeta avevamo, si sono andate a decostruire il Freudismo e quindi l'idea di non essere neanche padroni, in qualche modo, della propria stessa psicologia, delle proprie stesse idee, del proprio stesso inconscio, ma essere, come dire, vittime artefici e navigatori all'interno quella vasta gamma di fenomenologie, di perturbanti che Freud ha mostrato essere parte della nostra mente e oggi si parla in modo molto, come dire, tecnico di un ultimo grande colpo all'antropocentrismo, nel senso di sistema occidentale, perché se noi dovessimo fare immediatamente un confronto con il, con anche solo metaforicamente, quello che potremmo chiamare sistema filosofico concettuale orientale, tutto il discorso che sto facendo andrebbe in fumo, andrebbe in pezzi, perché è importante capire che molti di noi pensano di fare una filosofia universale, in realtà fanno una filosofia molto geolocalizzata, rispetto a quella che è la propria tradizione, io sono un italiano, un europeo, un siciliano, ho studiato in certi posti, ho vissuto certe cose, quindi come dire, mettere in crisi l'antropocentrismo significa anche questo, cioè capire che quello che stiamo dicendo ha un valore molto locale e come tale deve essere salutato, non come verità universale o di fede. E oggi si parla tantissimo di questo ultimo grande colpo all'antropocentrismo, che è quello che per utilizzare una parola coniata da Luciano Floridi, che è uno dei grandi filosofi internazionali discussi in tutto il mondo, era Oxford fino a ieri, oggi è stato assunto all'Università di Bologna, abbiamo appreso, quindi è tornato in Italia, è quella dell'infosfera, cioè dell'idea che in qualche modo non è neanche più la biosfera il nostro ambito di azione, cioè quello che chiamavo con delle parole da Walt Disney il cerchio della vita, ma è come dire appunto questo sistema di relazioni in cui noi non siamo altro che trasportatori e trasportanti di informazioni, in una specie di grande immenso reticolo che spesso chiamiamo la rete, non c'è più neanche una centralità di sistemi informativi, ma siamo come dire immersi in questa grande digitalizzazione della vita e dell'esistenza e infatti effettivamente queste quattro rivoluzioni fanno perno, fanno come dire leva, mettono in leva i quattro assi e l'antropocentrismo classici, la centralità metafisica e quella scientifica, quella biologica, quella informativa, quella religiosa e destituiscono il grande sistema dell'antropocentrismo che se vogliamo è caduto molto tempo fa, se dobbiamo dire qual è stata la filosofia che probabilmente ha dato il colpo di grazia all'antropocentrismo non è recente perché è di fine dell'ottocento, di quella di Friedrich Nietzsche, se pensiamo a che cosa sono i quattro errori congelati all'interno della gaia scienza di Nietzsche sostanzialmente sono questa cosa qui a cui noi oggi diamo un linguaggio un po' più tecnico, un po' più edulcorato, almeno magari profetico, ma come dire l'antropocentrismo è stato messo in crisi parecchio tempo fa, ha avuto dei tentativi di ricostruttivi in filosofia che passano per la lettura di Nietzsche magari che ha fatto un filosofo come Martin Heidegger eccetera, però oggi soprattutto rispetto a quello che è il tema di questo seminario organizzato da Simone Regazzoni, cioè l'Abbinia del Pianeta, possiamo dire che l'antropocentrismo non è più un modello euristico intelligente e sufficiente, cioè con l'antropocentrismo noi non soltanto non risolviamo i problemi che dobbiamo affrontare ma non spieghiamo neanche per quale ragione questi problemi costantemente aumentano. Nella mia, diciamo così, lettura delle quattro rivoluzioni, che è quella che ho operato in questo piccolo libretto qua che ho messo nelle slide, tanto perché una volta che vieni invitato a parlare tu significa che sei costretto a parlare di te e quindi tanto vale evitare di far finta di essere umili, cosa che già ai filosofi appartiene pochissimo. Ho provato, diciamo così, a considerare una terza rivoluzione che a mio avviso è più, non più efficace perché chi sono io per criticare Freud, però ci permette di decentralizzare in modo ancora più radicale l'essere umano da una metafisica egocentrata che è quella che possiamo chiamare in un linguaggio più dietizzante e antispecismo, in un linguaggio più ampio, complesso, articolato, di ampio respiro e non necessariamente moralista, ecologia. Che è in realtà, come dire, la vera grande teoria che ha letteralmente spazzato via tutte le pretese metafisiche centraliste di Homo sapiens, perché abbiamo dovuto cominciare a parlare di aggregati di forme di vita come gli ecosistemi, capire che genere di entità metafisiche erano, che genere di diritti o doveri noi dobbiamo esercitare nei confronti di ciò che c'è fuori dall'umano anche se queste entità non esercitano diritti e doveri nei nostri confronti, quindi ha destabilizzato le teorie etiche, normative classiche e tradizionali, ha fatto capolino nel dibattito pubblico l'ecologia ormai moltissimo tempo fa, ma è di fatto e senza dubbio uno dei grandi temi della filosofia contemporanea. E l'esercizio di stile quasi concettuale che io provo a fare è sostituendo a Freud la rivoluzione ecologica, quale potrebbe essere la quarta rivoluzione che segue, dato che la quarta rivoluzione è palesemente un'estensione della terza perché ha ancora a che fare con le informazioni e il possesso di sé, quindi c'è ancora, come direbbe Carmelo Bene, c'è troppa puzza di uomo ancora in queste quattro rivoluzioni. È quella che io ho provato a definire la rivoluzione del postumano contemporaneo, cioè dell'idea di non tanto capire come salvare Homo sapiens da se stesso, ma provare, perché come direi, una dei trabocchetti concettuali che sono nascosti dal sottotitolo che Simone Regazzoni insieme a Palazzo Ducale ha scelto per questa serie di conferenze ha a che fare appunto con l'avvenire del pianeta che in realtà è l'avvenire dell'uomo nel pianeta perché ai noi il pianeta ci sopravviverà e se ne forterà abbastanza del nostro destino, certo perderà qualche specie, magari saranno finite le mante, saranno finiti gli elefanti bianchi e altre specie animali meravigliose che noi abbiamo fatto fuori per ingordiggia di varia natura o perché so che Simone si sta interessando gli oceani alla filosofia del sommesso, l'idea che ci sia della gente che taglia le pinne e gli squali e poi le rimette là dentro, devo dire che è una delle cose che fa perdere ogni speranza sull'esistenza di Dio anche alle persone più credenti, però invece cercare di capire che futuro c'è dopo Mon Sapiens in questo pianeta e perché no provare a ragionare per metafora perché ogni tanto secondo me ci può salvare soltanto la metafora quando il mondo fuori crolla o diventa particolarmente noioso le cose di cui siamo costretti a parlare oggi tipo mascherina sì mascherina, no? Renzi ha fatto bene, Renzi ha fatto male, ogni tanto azzare il tiro può darci una boccata d'aria fresca, per esempio se non è possibile che a furia di inquinare, distruggere, compostare il mondo, gli oceani, gli animali, creare creature prima inesistenti come pesci che si ibridano con i tappi di bottiglie eccetera perché noi abbiamo creato delle cose incredibili che la filosofia non ha ancora analizzato abbastanza, forse l'unico vero tentativo concettualmente interessante è la scena di Donna Haraway in cui c'è appunto un'ibridazione tra le vite e gli oggetti così radicale e se non sia possibile concepire anche il fatto che Homo Sapiens sta cambiando radicalmente da un punto di vista non soltanto concettuale ma anche biologico. Ora in questa prospettiva mi sembra interessante provare a considerare il Covid-19 non soltanto un evento qualsiasi. Tra l'altro appunto, visto che mi trovo a dialogare con Simone Regazioni per l'occasione, Simone per esempio secondo me è stato uno dei pochi filosofi in Italia ad aver capito che il Covid era una cosa seria quando è scattato. Una delle più grandi cazzate concettuali che sono state dette, l'ha detta Giorgio Gamben, che pure è un grandissimo filosofo sine qua non, chi sono io per giudicarlo, però quando ha intervenuto sul Covid e lo ha purtroppo continuato a fare più volte cercando di raddrizzare maldestramente il tiro, all'inizio aveva detto che era un'influenza e che la biopolitica voleva renderci tutti schiavi, cosa ovvia, cosa che come dire era demenziale anche se l'avessero scritta come dire i peggiori complottisti e ahimè invece queste cose succedono. Invece il Covid è una cosa seria, poi magari la gestione del Covid non è seria, ma questo è un altro discorso su cui mi trovo d'accordo con Agamben, cioè d'accordissimo con Agamben, cioè il modo in cui la politica ha gestito il Covid è ridicolo, ma ahimè il Covid esiste ed è una conseguenza di quell'antropocentrismo di cui abbiamo discusso adesso, viaggia con le infrastrutture tipiche del sistema antropocentrico, esiste come sappiamo grazie probabilmente ai numerosi spillover di virus che non saltano automaticamente da una specie all'altra ma derivano dal maldestro contatto che noi abbiamo col mondo selvatico e col mondo animale, si potenzia grazie alla scarsa qualità dell'ossigeno e alle enorme emissioni di CO2 che c'è nelle nostre città, non è un caso che per esempio a Milano il Covid sia stato più grave che a Enna, non è, dipende soltanto dal fatto che la gente prende tante metropolitana o tanti mezzi, dipende anche dal fatto che statistiche di oggi, Milano è la quinta città più inquinata d'Europa, Torino è la terza per esempio, è ovvio che una malattia che incide sulla qualità polmonare in un posto in cui già respiri una merda, sicuramente non ti accarezza e non ti abbraccia. Il Covid è uno delle tante, come dire, eventi scatenanti che potrebbero far sì che l'umano abbia un avvenire sempre più ridotto, effettivamente l'orizzonte della visita umana si riduce moltissimo secondo le statistiche che ci vengono date. I grandi osservatori internazionali, la Nato con i suoi satelliti, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la FAO, parlano di dieci anni per invertire il cambiamento climatico, pena un default di irreversibilità della distituzione della nostra pur strampalata nicchia ecologica, il che significa che in questi dieci anni noi dovremmo fare un sacco di cose che non facciamo perché questi dieci anni sono tali e si potrebbero allungare se noi facessimo tutta una serie di cose, fine del combustibile fossile, riduzione della plastica, della carne e via dicendo, in realtà faremo l'esatto contrario, aumenteremo secondo i dati che ci vengono dati anche di popolazione sfiorando il tetto storico di 10 miliardi, il che fa sì che questi dati vadano in contraddizione e in contrazione, cioè gli anni probabilmente ai me non sono dieci, ma sono molti meno. E allora, come dire, la filosofia che si è sempre occupata della fine della filosofia, della fine del mondo, in modo un po' anche poetico, uno dei grandi cavalli di battaglia di Simone, penso a Jacques Derrida, sul concetto di fine, ha detto un sacco di cose meravigliose perché era un fuoriclasse assoluto della riflessione filosofica, certo oggi noi invece la fine la stiamo vedendo veramente, questa è la cosa incredibile, mai ci saremmo aspettati fino a tre anni fa di restare chiusi in casa per quasi due anni, perché poi di questo si parlerà se tutto va bene, mascherati, quindi ed è anche come dire l'antropocentrismo che in fondo è un grande modello prodotto dall'Occidente, con cui l'Occidente ha colonizzato l'Oriente, il Terzo Mondo, eccetera, e però si sentiva pulito da ogni genere di problema, quindi noi vedevamo le mascherine in Cina, le stie in Africa, dicevamo cosa terribile, mentre eravamo al ristorante in 15 a bere il Martini Cocktail, adesso è arrivata una specie di onda d'urto al contrario e noi viviamo gli effetti delle nostre azioni. L'antropocentrismo in fondo è anche una grande spiegazione del famoso principio della fisica per cui a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, il Covid è una reazione uguale e contraria, ahimè, a quello che abbiamo fatto noi. Siccome appunto come tipo di filosofia, io ho scelto di fare un tipo di filosofia ahimè non tanto celebre nei posti in cui magari un filosofo sogna di lavorare quando è ragazzino, tipo i dipartimenti di filosofia della città dove è nato, oppure per comodità, il mio sogno era insegnare filosofia all'Università di Catania, così poi potevo andare a trovare mia madre per mandare la pasta, invece tutto questo non è successo. Ed è un tipo di filosofia che alla fine ragiona quasi più per immagini letterarie o per suggestioni che per argomentazioni che pure sono quelle in cui mi sono formato, perché io ho delle lauree che ho un dottorato in filosofia analitica, quindi le ho abbandonate con coscienza di causa, diciamo. Ho conosciuto le cose che poi ho deciso di non praticare come probabilmente tutti noi dovremmo fare. Ho sostanzialmente provato a raccontare in questo libro, che è il libro che citava prima Simone Regazzoni, dei immagini di vita potenziale di una specie Homo sapiens che non assomiglia più a Homo sapiens, perché cambia nelle sue usanze strutturali, cambia magari nel regime alimentare, cambia nella volontà di non vivere in città, cambia. E proprio in questi giorni sto vedendo un documentario su Netflix che si chiama tipo Racconti di Luce, una cosa del genere, in cui ho visto delle tribù di Boshimani che vivono ancora esattamente come vivevano diecimila anni fa, nello stesso identico modo. L'immagine che qualsiasi filosofo un po' onesto in questo momento può avere di quei Boshimani è esattamente come quella che hai degli scarafaggi, loro resteranno, noi no. Ok? Quindi se uno parla del futuro non soltanto come progresso tecnologico, scientifico, capacità di connettersi a internet rapidamente, eccetera, eccetera, ma anche come la banale capacità di sopravvivere, loro sono superiori a noi. E quindi è una questione anche di far finire l'antropocentrismo significa anche cambiare i parametri, che poi è il messaggio della conferenza di oggi, in cui la stabilità di fatto vuole provare ad essere un valore con cui sostituiamo il progresso. Cioè un'inversione rispetto a quello che noi pensiamo essere il tempo seguente, che deve essere sempre migliore del tempo precedente. Il che sarebbe anche banalmente falso se noi considerassimo l'estensione della vita umana, in cui talvolta il domani è migliore di ieri, ma poi se invece si muore, quindi non è assolutamente vero che il futuro, ahimè, è sempre meglio del passato. E queste sono, qui le cito e basta senza troppo entrarci dentro troppo, perché andiamo fuori strada, però sono quattro grandi figure, il filosofo americano Harry David Thoreau, il matematico Theodore Casischi, professore dell'Università di Berkeley, poi noto come una bomba per la serie di attentati che lo hanno visto purtroppo, perché è stato un errore terribile di questo signore protagonista rispetto a quella che era l'establishment della cultura informatica e tecnologica americana, diciamo, tra gli anni 70, 80 e 90, Casischi viene arrestato alla metà degli anni 90. Le Corbusier, il principe dell'architettura e del modernismo, è Ludwig Wittstein, forse il più grande tra i filosofi di cui io ho provato maldestramente ad occuparmi, che attraverso questa figura prototipica della capanna fanno esattamente quello che ho cercato di raccontarvi io fino a questo momento, cioè provano a mettere in discussione l'antropocentrismo dal loro interno, cioè pur essendo delle figure espressive dell'antropocentrismo, la filosofia, l'architettura, la matematica, arrivano un momento nella loro vita in cui si rendono conto che qualcosa di profondo attorno a noi non sta funzionando. Toro è stato uno dei primi a capire, non esisteva ancora la parola ecologia, ma parlava di qualcosa di simile, a capire che il nostro colonialismo totale nei confronti della natura sarebbe stato letale e quindi mentre tutti salutavano la rivoluzione industriale come la cosa più figa del mondo, lui diceva attenzione ragazzi che questa cosa non ci farà più avere un parco, non ci farà più avere dell'acqua pulita e nel suo ritiro a Walden, due anni, due mesi, due giorni, in cui scrive col meraviglioso diario che si chiama appunto Walden, ovvero l'Ulita nei boschi, fa l'impressione pensare che oggi Walden è uno dei laghi più inquinati al mondo perché il turismo che ha generato Walden lo ha poi praticamente distrutto e destituito della sua bellezza, però la profezia ahimè c'era. Lo stesso Fakasischi, matematico, abbandona, si sottrae alla realtà del professorato all'università di Berkeley a soli 27 anni e capisce come dire che la tecnologia, anche con la tecnologia come con l'antropocentrismo avremmo dovuto avere un approccio molto più dialettico che entusiasta e questo noi lo vediamo in questi giorni proprio di qualche giorno fa e la notizia di una ragazza che usando TikTok, una ragazzina di 10 anni credo, una cosa terribile, si è suicidata partecipando a un contest che su TikTok fanno i ragazzini di provare a stringersi la cinghia sul collo per vedere quanto resistono in un'apnea forzata, questa ragazza è andata a morte celebrale in pochissime ore e questo non ha, nessuno può pensare che un ragazzino di 10 anni abbia voglia di suicidarsi con questa leggerezza. È uno dei tanti effetti collaterali della tecnologia che pure ci ha dato delle cose straordinarie e meravigliose, per questo appunto la filosofia fa da protagonista nel dibattito sull'avvenire del pianeta perché ha un approccio, ripeto, dialettico nei confronti delle cose, non le demonizza in quanto tali ma soprattutto evita quei tecno entusiasmi un po' imbecilli che purtroppo hanno anche tanti filosofi nostrani e non soltanto per cui bisogna solo capire che cosa ci ha dato la tecnologia. Ahimè la tecnologia ci ha tolto anche moltissime cose pur dandocene tantissime altre, vedi per esempio la possibilità di fare questa conferenza insieme oggi e queste capanne io le ho analizzate all'interno di questo mio libro un po' per parlare anche di quattro modelli di contestazione dell'antropocentrismo, uno pacifico, uno cattivo, uno di esemplificazione e l'altro invece come dire di ricerca interiore. Su questa cosa vorrei dire una cosa breve prima di passare alla seconda e ultima parte dell'oretta diciamo così di conferenza che trascorriamo insieme. Si è completamente persa l'idea che la filosofia serva a non soltanto a risolvere, ammesso che la filosofia abbia mai risolto qualcosa o dei dubbi, a risolvere problemi o a argomentare a favore o contro determinate cose. Talvolta veramente lo dico ancora senza alcun tipo di spolemica, pensare che la filosofia sia una disciplina millenaria che serve a capire se il condizionale controfattuale ci dà o non ci dà certi tipi di mondi possibili, significa come pensare che lo scopo della scrittura sia generale Harry Potter, cioè è una cosa che è una cosa meravigliosa, però significa depotenziare tutto il percorso di imparare a stare al mondo che la filosofia ci ha sempre dato, la filosofia è servita solo a questo di fatto, a imparare a morire diceva qualcuno, a imparare a vivere diceva qualcun altro, ma siccome vita e morte non sono poi così distanti di fatto, stiamo parlando della stessa cosa, la filosofia è una cosa che ha a che fare con la postura, che noi abbiamo nei confronti del mondo e poi dopo puoi diventare un esperto di semantica, un esperto di etica, un esperto di filosofia politica o di estetica delle serie tv come il nostro caro amico Tommaso Riemma, ma questo non significa che tu debba perdere di vista il fatto che la filosofia è innanzitutto una ricerca del senso delle cose e questa battaglia con l'antropocentrismo la puoi fare soltanto su questi due fronti, un lato è quello concettuale che abbiamo visto prima, cioè contestare in cosa l'antropocentrismo non funziona da un punto di vista tecnico, anche se in tattico se vogliamo essere proprio supertecnici, dall'altro lato invece capire il ruolo che Homo Sapiens ha nel mondo a partire da noi stessi e questa cosa di Wittestein che tra l'altro è stato il filosofo più prostituito dalla filosofia analitica perché è il filosofo meno analitico che esista, lui stesso quando partecipò al circolo di Viemma disse non avete capito una abbiata minchia di quello che ho detto e se ne andocciano, nonostante abbiamo costruito libri su libri su libri in cui pensiamo di ridurre la filosofia di Wittestein alla spiegazione delle tavole di verità, cosa meravigliosa ma periferica assolutamente rispetto alla sua vita, quello che viene a mostrare per esempio una storia non a caso ma poco nota della vita di Wittestein cioè la costruzione della sua capanna nell'ultimo fiordo a nord della Norvegia da poco ricostruita per scopo museale, distrutta dopo la morte di Wittestein e via dicendo è che per fare filosofia bisognava cercare un rapporto con le cose, con la natura, con se stessi, con la solitudine, con la fatica fisica per esempio, non è un caso che Wittestein per raggiungere questa capanna dovesse prendere una barchetta e tante volte non ci poteva manco andare perché si gelava, siamo appunto, non dimentichiamo, siamo vicini a Caponord, non è esattamente un luogo simpatico dove andare a fare delle passeggiate e quindi è un po' lo scopo anche mio con questa chiacchierata qui con voi a Palazzo Ducale è anche riportare la filosofia a quello che la filosofia è, cioè la filosofia è anche se c'è stata la grande scissione filosofia psicologia o filosofia religione o confessione e seduta psicoanalitica eccetera la filosofia è una cosa di sciamani, cioè i presocratici erano sciamani, Talete, Anassimene, Nassimandro, era gente che si cercava veramente quasi attraverso il pensiero una possibilità di comprensione del ruolo dell'essere umano su questo pianeta anche in relazione alle altre cose e in questo il rapporto con la natura è fondamentale, non bisogna fare della natura un oggetto astratto, un'entità teorica come spesso fanno i filosofi della natura, a partire da Hegel per esempio, che con la natura aveva un rapporto pessimo come sappiamo, è famosa la trascrizione della gita in montagna a Hegel che poi lo ha ispirato per la sua filosofia della natura, non è per nulla contento, preferiva l'ambiente accademico diciamo alla filosofia e invece Torò perché è un filosofo fondamentale secondo me, perché con la natura ha un rapporto carnale, cerca in qualche modo di entrare al suo interno. Allora la cosa fondamentale secondo me è capire oggi che genere di via di uscita abbiamo dall'antropocentrismo, se ce n'è qualcuna. Io nel mio piccolo, l'ho fatto con questa metafora delle capanne, non ha nessuna volontà teorica, è quasi una volontà immaginifica, narrativa se vogliamo, però la filosofia oggi, ognuno nella propria strada, ognuno col proprio percorso, tutti rispettabili, deve capire se c'è un modo di bucare l'antropocentrismo e di offrire dei modelli alternativi per la vita che verrà. In fondo la filosofia ha sempre offerto dei modelli di vita, è per questo che critico ancora la filosofia diciamo così volutamente chiusa in degli autismi concettuali, perché inutile che uno si studia Platone e poi non capisce che quello se ne andava a Siracusa a farsi sbeffeggiare dal tiranno, perché voleva provare davvero a cambiare qualcosa nel mondo, se no se ne sarebbe stato a casa sua a leggere e scrivere, mentre come dire quella che spesso si chiama vocazione politica della filosofia, in realtà è proprio semplicemente l'idea che, lo diceva Toro molto bene, è impossibile sedersi per scrivere se prima non ti sei alzato per vivere, diceva lui, cioè che cosa scrivi, che ti siedi e scrivi su cosa, se non hai provato a vedere delle vie di uscita. E per me la filosofia è assolutamente, in questo invece Agamben per me è, anche se lui fa in modo assolutamente teorico, lui, nella tradizione che arriva da Agostino, passa da Wittestein, eccetera, assolutamente fondamentale. Cioè la filosofia costituisce una forma di vita, forma di vita nel senso anche più tecnico in cui parlava Wittestein, un sistema di regole, di linguaggi, di comportamenti, di visioni del mondo, esattamente, cioè spesso i buddhisti dicono che la filosofia del buddismo è un modo per imparare a vedere, in realtà anche la filosofia è bassa, è un modo per imparare a vedere, cioè è un modo per imparare a vedere cosa c'è oltre ciò che normalmente vediamo, al di là delle cose che pensiamo, e l'antropocentrismo è un sistema cognitivo avvolgente, cioè è veramente difficile capire cosa c'è fuori dall'antropocentrismo. Come diceva Thomas Nagel con il suo famoso articolo, no? Cosa si prova ad essere un pipistrello? E lui dice non lo capiremo mai, al massimo capiremo cosa proveremmo noi ad essere pipistrelli, ma cosa prova ad essere un pipistrello e un quanto pipistrello non c'è dato saperlo. È quello che dice Wittestein nelle ricerche filosofiche quando dice anche se un leone potesse parlare noi non lo potremmo capire. Però come dire, oggi che il mondo sta letteralmente crollando sotto il peso dell'antropocentrismo più incredibile, o noi facciamo questo sforzo concettuale enorme, come per esempio quello che ha fatto anche Emanuele Coccia rispetto alla metamorfosi e alla vita vegetale, perché questo è un campo di ricerca corale, siamo tutti utili e nessuno necessario, oppure falliamo, quindi dobbiamo capire che cosa significhi provare a pensare come una foglia, provare a pensare come un cricetto, provare a pensare come un ecosistema, come una montagna, come un vulcano, senza le chiusure di una filosofia che ti dice eh ma quello è un modo metaforico, il pensiero è un'altra cosa, i stati mentali, eccetera, perché a furia di occuparsi soltanto di umanità si siamo distrutti. Quindi è ovvio che bisogna cambiare completamente eh approccio. È una cosa che condivido assolutamente, appunto lo ripeto con Simone, penso al suo libro su Platone, è che la vita e la filosofia abbiano senso soltanto all'interno di una performance, ok? Che poi la performance sia la ehm la lotta eh del Mitsuru Jiu Jitsu oppure la eh eh la capanna, oppure come dire l'idea di provare a praticare un'idea e praticare un'idea è la cosa più complessa che esiste perché questo non significa che tu non debba studiare, scrivere, discutere le cose che stai facendo nel modo serio e giusto che 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 una pratica scientifica eh anche se io contesto radicalmente che la filosofia sia un sapere scientifico, però facciamo finta che eh che quella definizione sia una definizione. Io uno dei libri più atroci che ho letto nella mia vita è stato il mestiere di pensare di Diego Marconi pubblicato dall'Enaudi qualche anno fa. Io in quel momento ero dottorando sotto Diego Marconi e mi avviliva l'idea di che qualcuno potesse pensare che pensare fosse un mestiere. Cioè mi sembrava una cosa eh veramente veramente atroce perché va contro qualsiasi sistema millenario di concettualità no? Come se uno pensasse che fare il Buddha è un mestiere. Cioè sono delle cose veramente incredibili. E quindi mettere eh in eh voglio dire quest'ultima cosa cioè secondo me il motivo per cui la filosofia in questi anni non ha prodotto per esempio grandi trasformazioni strutturali come quelle che sono invece avvenute in arte come quelle che sono avvenute nell'architettura o nel design è perché la filosofia è un sapere troppo vincolato al potere e quindi nessuno si stacca mai dal dalla forma che viene data come obbligatoria. Ma eh se affinché uno possa avere un Picasso della filosofia o un eh non lo so un remcolas dell'architettura eh bisogna dare alla possibilità alla filosofia di distruggere quello che c'era prima e di creare qualcosa di nuovo. Questo sarebbe ovvio se noi anche capissimo una cosa di cui parlo spesso con Emanuele Coccia che è un mio caro amico. La filosofia non ha un canone non ha un linguaggio unico. Per questi sono ridicoli questi discorsi. La filosofia è stata fatta con gli aforismi con le poesie con i romanzi. La nausea di Sartre non credo sia un paper che potrebbe essere pubblicato su una rivista accademica. Lo Zarathustra di Nietzsche cos'è? Letteratura e filosofia? I dialoghi di Platone che sono pronti per essere messi in scena in un teatro. Cosa sono? Sono non sono filosofia. Quindi questa è perché quelle rotture infatti avvenivano perché non c'era un canone che le standardizzava. Oggi c'è un canone che ha letteralmente standardizzato la filosofia, l'ha avviluppata e quindi io non ho un ricordo di una cosa veramente radicale in filosofia negli ultimi vent'anni che ha veramente, come dire, cambiato le cose come ha cambiato Picasso con il cubismo. Questo significa o che i filosofi sono deficienti rispetto agli artisti, architetti e designer oppure che c'è un problema all'interno della disciplina. E mettere in discussione l'antropocentrismo per me significa anche mettere in discussione la filosofia. Allora arriviamo al tema del seminario a cui sono stato invitato, l'avvenire. Non credo sia un caso che Simone Derridiano qual è abbia utilizzato la parola avvenire perché appunto Jacques Derrida è famosissimo per infinite cose ma anche per la distinzione tra avvenire, futuro, spesso in italiano diciamo progresso e futuro perché traduciamo magari maldestramente i termini francesi derridiani ma come sappiamo appunto l'avvenire è diverso dal semplice futuro perché è un futuro orientato, è un futuro orientato moralmente, concettualmente, attraverso le categorie, attraverso una lotta che si fa con il proprio tempo. E noi abbiamo immaginato il futuro almeno prima del Covid molto simile a questo, questo è lo skyline di Dubai, in una delle tante giornate nebbiose e puzzolenti che caratterizzano quella città che pure è bellissima sotto infiniti altri aspetti. E poi appunto a un certo punto si è congelato tutto e siamo stati costretti, lo abbiamo visto, siamo pieni zeppi di riflessioni sul Covid. Slavo Icicek ha scritto il suo libro sul Covid, Badiou ha scritto il suo libro sul Covid, Agamben ha scritto il suo libro sul Covid, cioè tutti hanno parlato del virus. Abbiamo dovuto cominciare a ripensare un pochettino questa cosa. Allora la mia provocazione in relazione a quello che ho detto prima, al postumano contemporaneo, le capanne eccetera, è ma se ci fosse più futuro in una roba del genere? Questa qui è una visione dall'alto degli Yanomami nella foresta nazionica, una delle tribune in crisi dalla presidenza di Bolsonaro, vivono così dall'alba dei tempi, hanno un loro sistema cosmologico complessissimo. Per esempio lo sciamano capo degli Yanomami si chiama David Kopenawa, recentemente nottetempo pubblicato in italiano tra i vari editori internazionali la cosmologia degli Yanomami raccontata da Kopenawa, in questo libro bellissimo si chiama La caduta del cielo. gli Yanomami non hanno nessun problema rispetto all'avvenire del pianeta, non hanno nessun problema rispetto all'emissione di CO2, non hanno nessun problema rispetto a come gestire la tecnologia o i data center, non hanno nessun problema rispetto alla mobilità, rispetto all'istribuzione della carne, rispetto agli allenamenti intensivi, rispetto alla CO2. Allora è il momento di provare a dire, giocando paradossalmente, perché nessuno vuole tornare a vivere sugli alberi, io per primo, ma in questa paradossalità, se l'avvenire del pianeta, quindi quello su cui si sta consumando la nostra specie, è questo, allora incredibilmente esistono all'interno della nostra specie, gli Homo sapiens, di fatto delle altre specie, che non hanno nessun problema con l'avvenire di questo pianeta. Ed è questo il tema della lezione, cioè provare a riconsiderare il valore della stabilità. La stabilità è una delle parole più trascurate che esistono della filosofia, anche se fate l'esercizio di mettere stabilità e teoria su Google, vi escono teorie della stabilità in matematica, in grafica, eccetera, ma sostanzialmente direi poco e niente nel campo, nella vasta gamma di produzione filosofica occidentale. E come vedete la stabilità non è una forma di fermezza, per esempio quella lì è una rappresentazione geometrica della stabilità. La pallina può essere stabile in una superficie lineare, in una superficie concava o convessa, questo non significa che il mondo non cambia, significa che colui che sta in equilibrio sul mondo cerca di trovare la propria stabilità anche al cambiare delle condizioni di contorno, si dice così. E qual è la grande cosa? Che la stabilità è l'esatto contrario del valore del progresso. Il valore del progresso per cui il domani deve portare novità sempre e comunque rispetto all'oggi, novità di tipo tecnologico, di tipo tecnico, di tipo industriale, di tipo alimentare, di tipo... E qual è la grande differenza tra noi e gli anomami? Gli anomami credono nella stabilità. Noi crediamo nel progresso. Il progresso appunto è quello che ci ha dato tutto. Ed è qui che torna l'idea appunto della dialettica dell'antropocentrismo. Ci ha dato veramente tutto. Ma oggi sappiamo, riprendiamo il dato iniziale che abbiamo dato all'inizio della conferenza, che abbiamo dieci anni. Solo dieci anni per invertire il cambiamento. Non dieci anni e finisce il mondo, eh. Dieci anni per invertire il cambiamento climatico da cui poi inizierà la fine del mondo umano. Ne durerà cento, ne durerà cinquanta, ne durerà duecento per persone che come me e Simone hanno figli comunque una preoccupazione questa qui. Perché magari io arrivo a campare più o meno decentemente mascherato e chiuso in casa. Mi farebbe piacere che mia figlia a trent'anni non debba affrontare il blackout elettrico o la fine delle risorse idriche. Perché nel frattempo abbiamo cercato di capire quanto sono belli gli automi che ballano il Valzer. Ed è una cosa che non ci serve assolutamente a niente. anche perché gli automi non ballano assolutamente nulla. Perché ballare significa interpretare e ahimè non c'è ancora una macchina che abbia passato il test di Turing neanche a cercarla con la lente di ingrandimento. E la mia proposta di una ricerca sulla stabilità che non esiste ancora e che è una volontà di dialogare, raccontare, cercare è anche quella di riflettere su alcune parole chiave che sono completamente diverse rispetto alle parole chiave che ci siamo dati oggi all'interno dell'egito del progresso e dell'antropocentrismo forzato. La prima ha a che fare con l'attesa che è l'esatto contrario dell'aggressione del tempo e delle cose che ci è data nella contemporaneità. che qui ahimè mi sa che viene fuori la mia passione appunto per le filosofie zen e orientali. La rapidità è un nemico assoluto dell'uomo perché non può che portare contraccolpi incredibili. Tutto in natura funziona con cicli che non possono essere accelerati. I nove mesi in cui ho dovuto osservare la pancia e la mia compagna che portava in grembo mia figlia mi hanno fatto capire che potevo avere tutta la fretta del mondo ma non potevo fare altro che aspettare. Le cose accadono, non le puoi aggredire più di tanto. Secondo me una filosofia dell'attesa sarebbe una delle grandi filosofie da fare in questo momento. Cioè che cosa significa? Non penetrare i concetti ma come ha detto per esempio Paul Presiado da poco essere penetrato dai concetti cioè cambiare radicalmente il rapporto di attività e di passività che noi abbiamo nei confronti delle cose del mondo della natura delle idee con cui ci dobbiamo confrontare. L'esatto della rapidità che è funzionando al progresso. Sbrigati, fai questo, ottieni questo, raggiungi questo. Attendere perché per esempio le grandi cose alla fine ti costringono ad attendere. Noi siamo qui a dire che sbatteremo il Covid a botti di vaccini, eccetera, eccetera che in realtà il segreto di Pulcinella è che stiamo tutti aspettando che passi da solo. Questo in cuor nostro lo sappiamo tutti tant'è vero che anche se si fanno i vaccini bisognerà proteggersi continueranno il lockdown si metteranno comunque le mascherine perché bisogna attendere che passi, attendere che passi la tempesta non c'è, ahimè, niente da fare se non interiorizzare queste cose. E se mettere in crisi l'antropocentrismo è anche un grande modo per recuperare il rapporto e la relazione che noi abbiamo con la semplicità che la semplicità proprio nel modo più tecnico del termine in cui se ne parla nel casoio di Ockham in Kant, eccetera, eccetera cioè l'idea è che di fronte ai dieci anni di game over che abbiamo davanti noi non possiamo fare altro che semplificare utilizzare meno cose possibili per raggiungere i nostri obiettivi e svolgere le nostre vite. È evidente che noi questa cosa non la stiamo assolutamente capendo siamo davanti a una delle cose più incredibili che dovremo affrontare nei prossimi anni è l'inquinamento dato dalle mascherine che abbiamo utilizzato per il Covid ci sono mascherine ovunque ci sono mascherine nei mari ci sono mascherine negli oceani ci sono mascherine nei boschi ci sono già immagini di animali che sono nati all'interno di mascherine che si sono ibridati con le mascherine ed è incredibile come l'umanità per risolvere un problema ne crei immediatamente un altro questa iperproduzione è esattamente una delle cose che bisognerà combattere e credo ancora una volta che una filosofia come pratica di vita possa evitare a fare anche questo. La terza parola chiave che fornisco al pubblico come riflessione è la parola ecologia però l'ecologia in questo momento è divulgata nel modo più sbagliato possibile perché è divulgata come moralismo non fare questo non mangiare carne non buttare la spazzatura male non ti fare troppe docce non girare con la moto gira con la bicicletta mentre l'ecologia è qualcosa di profondamente positivo perché è l'unico modo per poter godere ancora per poter vivere ancora per poter saltare ancora per poter correre ancora per poter fare ancora l'amore per poter mangiare ancora e quindi è l'unica conoscenza del mondo che ci è data in questo momento è la conoscenza tramite l'ecologia se noi vogliamo continuare a salvare l'avvenire di Homo sapiens nel pianeta tutto deve essere filtrato alla luce dell'ecologia non come sistema privativo delle cose ma come unica gabbia di concettuale come unico schema di possibilità di conoscenza dobbiamo imparare a stare da soli questa è un'altra delle cose a cui la filosofia può assolutamente servire in questo momento visto che comunque siamo in un contesto di filosofia che si relaziona a un grande pubblico spesso ti viene chiesto a che serve la filosofia a me l'isolamento non è pesato perché sapevo stare da solo non mi è pesato per nulla devo essere sincero e per quello che ho studiato anche queste storie di isolamento le capanne Vitte eccetera noi abbiamo investito soltanto sul contrario dell'isolamento sulla distrazione appunto mentre invece non è una cosa negativa non è semplicemente una cosa da quarantena non è semplicemente una cosa in cui proteggessi ma è la grande capacità appunto di investire del conosci te stesso è questa cosa qui c'è c'è un'infinita compagnia dentro di noi ci sono gli incubi i sogni le infinite personalità che abbiamo gli oggetti con cui abbiamo attraversato la nostra vita ed è incredibile come direi che l'essere umano abbia così paura della solitudine e questo ahimè mi porta anche al mio ruolo di filosofo quasi dei vecchi o degli anziani io credo che prima affrontiamo il problema dell'offline prima riusciamo a capire che la vera contemporaneità non è l'online ma è l'offline esattamente come l'online era la parola di 25 anni fa oggi dobbiamo capire cos'è l'offlife perché in uno spazio ecologico come quello che stiamo per affrontare non è detto che l'internet prima o poi non tracolli visto il consumo materiale dei suoli e delle risorse che ha non è detto che in qualche modo non dobbiamo addestrare i nostri figli a qualcosa che esiste fuori da questo spazio come quello dell'online e questo significa per me anche anticipare i tempi anticipazione è un'altra delle grandi parole chiave della filosofia essere stati impreparati di fronte al covid è una delle cose più incredibili che mi siano capitate non poteva che accadere si poteva chiamare covid si poteva chiamare lebra 3.0 si poteva chiamare crisi climatica ma erano anni che aspettavamo uno dei primi contraccolpi del nostro modo di vivere la filosofia è anche un grande addestramento all'anticipazione dei problemi e mi viene semplicemente come dire da chiudere questa chiacchierata riassumendola nella sua maldestra rapidità data anche dall'online in tre momenti cioè la filosofia deve aiutare a mettere in discussione le cose la cosa principale da mettere in discussione in questo momento è l'antropocentalismo non lo può fare soltanto teoricamente o concettualmente ma deve reinvestire anche sulla pratica di sé da cui la filosofia è stata come dire relegata fuori prima giustamente dalle discipline più propriamente indirizzate alla pratica e alla cura di sé psicanalisi eccetera eccetera e poi dalla filosofia stessa che si è ritagliata uno spazietto mediocre e minuscolo nella ricerca scientifica sostanzialmente di pulizia dei concetti delle altre scienze o delle altre discipline e questa cosa è gravissima e un terzo momento è quello di provare a cambiare radicalmente i valori dentro il quale noi viviamo che abbiamo fatto un esercizio di stile metaforico con delle parole chiave perché l'unico modo di salvaguardare l'avvenire del pianeta è il nostro è cambiare le categorie i valori e i concetti con cui andiamo incontro a questo avvenire grazie Leonardo Caffo perché davvero non hai solo affrontato alcune questioni che in diversi hanno toccato rispetto all'antropocentrismo ai problemi ecologici ma ti sei spinto a diciamo a bozzare una mappa per l'avvenire e questo è sempre rischioso in filosofia Marx dubitava delle ricette per l'osteria dell'avvenire e tuttavia è assolutamente necessario altrimenti il rischio è davvero poi quello di continuare a glossare una storia per quanto gloriosa di concetti senza provare a muoversi in altro modo quindi mi concentro soprattutto sulla mappa che ci hai dato è una mappa di parole che vanno composte a partire da stabilità quando mi hai dato il titolo della tua relazione all'inizio non ti ho detto niente l'ho preso così però la parola mi ha stupito la parola stabilità hai ragione non è quasi mai usata potremmo dire non è cool in filosofia dire stabilità sembra una roba senza senza una qualche forza in realtà è un equilibrio di forze la stabilità non è staticità la stabilità è qualche cosa che va ricercato con un grande un grande lavoro e questo lavoro tu l'hai fatto con queste altre parole attesa semplicità ecologia mi soffermo su una che mi sembra un tassella fondamentale di questa stabilità come equilibrio di forze o meglio riequilibrio di forze perché noi siamo non solo totalmente instabili ma incapaci di vedere come riarticolare le forze per trovare un punto di stabilità è la parola attesa la parola attesa implica una riconsiderazione della nostra postura rispetto al futuro avvenire o meglio a me viene in mente questa formula molto bella rispetto a tutta una filosofia anche novecentesca penso a Heidegger dove noi siamo pensati come un progetto gettato tutti proiettati verso l'avvenire anche laddove la categoria di progresso diventa sospetta però c'è questo essere continuamente proiettati in avanti quasi a sfuggire l'avvenire cioè prendere afferrare l'avvenire è un modo per sfuggirlo l'attesa invece non ha più a che fare con il far venire l'avvenire progettare afferrare ma uso io questa formula tu non l'hai usata e vorrei chiederti cosa ne pensi la capacità di lasciar venire l'avvenire ecco questo lasciare che è il contrario di prendere non è semplicemente una postura passiva rispetto all'avvenire ma un'altra postura rispetto all'avvenire ecco io credo che quando ho parlato dell'avvenire del nostro pianeta io non avevo in mente una questione temporale però tu hai connesso con questa dimensione dell'attesa un modo per rapportarsi a questo avvenire non c'è avvenire senza addestramento all'attesa cioè senza addestramento a lasciar venire ciò che viene senza impossessarsi di questo avvenire senza progettarlo senza afferrarlo e da qui l'altra parola isolamento la solitudine è allo spazio dell'attesa la solitudine è tutto spazio è interamente uno spazio dell'attesa è saper stare in attesa quello che ho vissuto male di questo periodo che ho vissuto benissimo in termini di solitudine è vedere sempre più persone attorno a me amici eccetera che erano totalmente incapaci di vivere questa solitudine lo spazio di un'attesa che poteva essere anche indefinita era insopportabile una delle cose più drammatiche di questa vicenda covid al di là della drammaticità della morte evidentemente è però misurare quanto noi viventi umani siamo stati incapaci di solitudine come spazio di un'attesa dell'avvenire e allora lì tutti a cercare il modo per eludere tutto questo dalla pulsione a incontrarsi online al tentativo di sfuggire alle regole al tentativo di denegare il covid non esiste a un complotto eccetera tutto perché mancava questa capacità vengo adesso alla domanda quindi questi due aspetti la stabilità l'attesa la solitudine mi sembrano centrali ma implicano davvero una rivoluzione posturale dove con posturare intendo in termini di postura etica del soggetto aggiungo ti faccio una domanda su un aspetto che hai toccato meno che anche in quattro capanne tocchi meno e che mi interessa tutto questo implica naturalmente un lavoro sul soggetto implica un lavoro sul discorso filosofico che è parte dell'antropocentrismo però implica anche un lavoro che non può essere solo del singolo ma deve essere un lavoro anche collettivo quindi un passaggio dall'ezos dalla postura allo spazio politico dove quando si parla di politica di solito pensiamo ai discorsi alle teorie eccetera a me viene in mente quello che oggi secondo me è uno degli spazi dove si gioca l'avvenire della politica cioè l'architettura cioè la dimensione dell'abitare in comune se c'è qualcosa di cui abbiamo visto praticamente la follia l'inutilità è la costruzione delle città così come le abbiamo pensate penso al nostro amico Emanuele Coccia che parla delle città come spazio di desertificazione dove ci sono quasi solo pietre non c'è spazio quasi per gli altri viventi che siano le piante che siano gli animali ecco abbiamo percepito tutti che questi spazi di condensazione e in assenza di altre forme viventi sono spazi di una follia che è legata al modello di produzione al modello di consumo eccetera ecco ti chiedo in questa idea di stabilità come ripensare lo spazio della convivenza e dell'abitare all'interno di questa dimensione di una stabilità come attesa semplicità ecologia so che è una domanda che implicherebbe un'altra conferenza ma ti chiedo se hai qualche spunto su questo e ti ringrazio ancora per la bellissima conferenza innanzitutto sono io che ti ringrazio Simone ringrazio Palazzo Lucale io insieme a Emanuele tra l'altro un po' meno di Emanuele su alcune cose lavoro da tanto tempo insieme agli architetti io e Emanuele lavoriamo un po' con Boeri l'equipo di Triennale eccetera e una delle proposte per esempio più interessanti che Stefano Boeri ha fatto era quella della città come archipelago di Bordi cioè l'idea del fatto che la città è un corpo che non può che estendersi verso quelle che una volta chiamavamo borghi disabitati o periferie ma in realtà deve cominciare a comprenderli oppure anche l'idea di considerare la città non come qualcosa che si erge nel deserto ma come qualcosa che arriva dove prima c'erano animali c'erano piante c'era natura e quindi considerare sempre di più la città come un luogo poroso dove gli animali le piante i fiumi il mare i boschi voi a Genova avete una grande fortuna Genova è una città estremamente porosa si vedono uccelli c'è il mare che in continuazione ti ricorda un rapporto con la natura e con chiaramente i rapporti le città che hanno sofferto di più questa cosa non a caso sono di città che appunto erano l'emblema di quel progresso fine a se stesso non relazionato al infatti sono stato in Milano in Italia il modello di Milano si è mostrato per il fallimento che era cioè quello di non aver guardato certe cose Londra è stata Madrid è stata New York nonostante il progetto di Central Park di fatto sia quello di un immenso bosco all'interno della città è ovvio che se si vuole salvare la città io non credo che nei prossimi anni scompariranno le città le città sono destinate a scomparire sicuramente quando un giorno il conto degli umani adesso noi stiamo salutando il fatto che diventeremo 10 miliardi ogni giorno saremo 10 miliardi ci saranno invece le notizie che diranno l'umanità sta diminuendo siamo 7 siamo 6 perché comunque è un ciclo finché diventeremo molto pochi e sicuramente quando saremo molto pochi non vivremo in città ma vivremo in altri in altri luoghi ma nel momento in cui viviamo adesso quella città sicuramente non finirà come modello è sempre più come dire contemporaneo non edificare non costruire non mineralizzare ma piantare alberi costruire boschi all'interno delle città reintrodurre specie di animali che magari sono autoctone rispetto alla geografia in cui la città per esempio specie di uccelli che si sono allontanati per l'inquinamento gli insetti che svolgono ruolo fondamentale nell'ecosistema di una città esclusi le zonzare che ci torturano terribilmente piuttosto che fare ragionamenti di questo tipo e considerare secondo me sempre di più la porosità delle città con i loro esterni con i loro borghi con i loro quello è una cosa abbastanza fondamentale in tutto ciò va ripensato il luogo della casa ma quello è un discorso che compete quasi più la filosofia del design e dell'architettura che se vogliamo è una cosa un po' più tecnica e noiosa delle cose di cui ci siamo occupati noi oggi insieme cioè per esempio è fallita l'idea di casa patriarcale la stanza per la donna che sta in cucina lo studiolo per il maschio la camera per i bimbi e il corridoietto comodo che porta alla camera da letto perché nel momento in cui il privato e il pubblico non sono più separati ma di fatto il lavoro è entrato dentro le case i social sono dentro le case i meeting gli aperitivi allora a quel punto la casa va completamente ripensata deve essere anche quella porosa multifunzionale Milano non può più permettersi come le grandi città del mondo non possono più permettersi di vendere 20 metri quadri a milioni di euro solo per stare in una posizione e questo ahimè sono effetti meno sofisticati ma realissimi dell'antropocentrismo messo in discussione ti ringrazio Leonardo grazie davvero per essere stato ospite virtuale ma presente con le tue idee le tue proposte qui a Palazzo Ducale a Genova e ringrazio tutte voi e tutti voi che ci avete seguito vi do appuntamento all'8 febbraio sempre alle 18.30 sarà con noi il filosofo Sergio Givone che ci parlerà di pensare al tempo del Covid grazie 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 a tutti grazie a tutti